Ciao! Mentre meditavo questa mattina mi è arrivato qualcosa che ho piacere veramente di condividere con te. Quando tu arrivi a provare dolore nella vita oppure provi delle resistenze è perché in qualche modo vivi degli attaccamenti degli attaccamenti anche alla tua identità, a chi tu sei, a come ti percepisci, a come vorresti che ti percepissero gli altri, a ciò che vorresti ottenere nella vita tra cui l'amore e tante altre cose. Nel momento in cui tu ti permetti di distaccarti dalla tua identità, da ciò che sei, da ciò che hai sempre voluto essere, da ciò che hai pensato di dover essere, allora lì scompare il dolore, lì scompaiono le aspettative, scompaiono tutta una serie di cose, possiamo chiamarle cose perché sono talmente tante, che normalmente ti avvicinano al dolore, ti avvicinano alle resistenze e ti allontanano realmente da ciò che sei. Quindi un esercizio che ti voglio proporre questa mattina è proprio questo. Prenditi un attimo nella tua giornata e comincia a distaccarti da tutto ciò che hai pensato di essere, cominciando proprio con gli occhi chiusi, fai un bel respiro e cominci a pensare non sono più il mio corpo, non sono più e ripeti il tuo nome, non sono più, ripeti la tua professione, ripeti i tuoi ruoli, quindi se sei madre o padre ripeti non sono più madre, non sono più padre, non sono più, io potrei dire non sono più patrizia, non sono più italiana, non sono più questo, non sono più quello. Quando hai fatto tutto il tuo elenco di cose che tu hai lasciato andare relativamente alla tua identità, comincia ad aprirti, a diventare niente di tutto questo, ad essere nulla di tutto questo, ad essere libero da tutti questi schemi, da tutte queste definizioni, da tutto ciò che in realtà ti imprigiona. Quindi ti connetti con uno spazio di infinite possibilità che ti permette di sentirti più espanso. Quindi chiudi gli occhi, sempre con gli occhi chiusi, anzi e dici mi apro ad essere nulla, nulla di tutto ciò che sono stato fino adesso. Respiri e rimani qualche istante in quello stato e fammi sapere che cosa hai ottenuto, come ti sei sentito. Ok? È un esercizio che ti farà bene a ripetere ogni giorno, perché comunque ti distacca da tutta una serie di limiti che tu hai creato nella tua vita. Quindi con questo ti saluto, ti abbraccio e fammi sapere com'è andata, scrivimi i tuoi commenti qui sotto, così magari proseguiremo con qualcosa di più interessante ancora per te. Ciao!